ciao questo è un nuovo video che di solito che faccio quando riesco a guardare qualche film che mi sono andato a recuperare anche se era vecchio come film ma ultimamente mi sono andato a recuperare certi film vecchi di martine scorsese che sono andato a mi sono andato a vedere e vedere new york new york che è un film del 77 che nello stesso anno è uscito è uscito anche in italia perché dall'america all'italia ma è poco capitata spesso come sempre che magari è in italia magari i film quelli americani escono quei due qualche mese arrivano qualche mese dopo quei due tre mesi dopo che in italia è arrivato nel novembre del 77 questo film qua di new york new york si predisco scorso sese che ho visto che mai anche nella parte magari degli attori sono sempre quasi mai i soliti che gli soliti marei che hanno fatto marea che hanno collaborato magari anche in altri film e si predisco sese tipo robert de niro così che magari sicuramente marei vi lascio sempre come al solito le informazioni magari sotto in descrizione in descrizione su questo film che più che altro anche se due a quelle due ore 42 ore tre quarti quei due ore 43 44 più o meno di film però essendo fatto da mare anche da un regista che come si dice è capace marei anche di fare il suo mestiere scorzese che sono è un nome di quei film che che può passare marei anche gli anni e poi si resta marei sempre sempre bello come come i film e questo qua di new york new york che come si dice anche se tocca mai il genere un po musical romantico parla più che altro marei tutto per tutta ma è la trama ma lei del film parla di questo spiante sassofonista è un cantante che si incontrano dopo c'è durante la celebrazione marei della vittoria contro contro il giappone alla fine marei della seconda guerra mondiale che come si dice che è più che altro mai tratta parli più creato di questo incontro da questo sassofonista sassofonista e questo cantante parla più che altro marei di questo che ho visto che è uno di quei film marei che possono restare che sono fatti marei anche bene che possono passare marei anche gli anni e resta come film resta sempre bello come come film che è uno di quelli storici di che ha fatto scorsese che è sicuramente uno di sicuramente uno dei film che magari a mio parere magari è uno di quei film magari che migliori che è riuscito a fare scorsese che gli voglio dedicare proprio questo video e portarlo magari sul mio canale e niente che anche marei si dura magari confronto marei ad altri marei un attimino marei un po' più lungo come come film che due quelli due ore e tre quarti però nella maniera marei come fatto marei anche il film resta marei anche sempre meglio e anche migliori confronto marei ad altri che ci sono marei che sono posso che possono essere marei anche usciti marei anche ultimamente che ho visto che ma che magari nelle recensioni che si trovano marei in giro è sempre marei è uno di quelli che quello più o mai vuota il migliore magari migliore marei recensioni che ci sono perché che come film marei è fatto sicuramente è fatto sicuramente bene che come stavo dicendo marei prima vi lascio marei anche il video tra il marei il cast di cui marei degli attori che hanno sono stati dentro il film magari anche si riesco marei anche la trama e niente che ho visto che magari come si dice che anche una marei nelle recensioni così che è quello con maggior valutazioni e migliori ho visto essendo mai scorsese essendo mai un film di martiri scorsese che è capace magari anche di fare magari anche il suo magari mestiere da regista che ha i suoi film e riusciva sempre magari mettendo magari anche attori che riuscivano magari a come si dice a come si dice a entrare magari anche ad altri magari proprio a quel film che riuscivano a magari con il suo magari da una parte ma il modo di fare lo suo che che erano sembra che erano mai fatti proprio per girare quelle quei quei personaggi lì come è capitato magari in altri film che magari anche non non di scorsese come eh il primo ma è anche il primo film di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato e anche magari in altri film che eh eh dalla parte magari delle regista e eh eh magari eh come si dice la parte marea delle regista deve essere magari anche capaci di mettere lì degli attori che eh eh adatti proprio a a quella eh a quella magari personaggio che c'è in quel film che può lo può magari anche rendere magari eh eh magari alla visione ma è eh 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 come si dice eh che magari quando guardi il film quel quell'attore sembra fatto proprio per girare eh eh quel quel film lì eh anche se magari può avere magari anche i suoi anni che del 77 come film ho visto che resta sempre bello eh può restare sempre bello come film eh e niente quello che magari potevo magari di esso questo film magari eh l'ho già detta e ci vediamo magari sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che faccio magari sul eh eh sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao